È in grado di individuare con precisione ogni abitazione del territorio comunale e di localizzare tutti i numeri civici anche nelle località non provviste di denominazioni stradali attraverso una mappa interattiva. Si chiama infatti SIT Sistema Informativo Territoriale ed è un servizio già attivo e consultabile sul sito del Comune di Arezzo. Il Sistema Informativo Territoriale era una piattaforma che era già presente nel sito del Comune di Arezzo, ovviamente veniva strettamente utilizzata dai professionisti perché andava a identificare tutte le pratiche più urbanistiche. Adesso invece grazie all'integrazione che è stata fatta e al connubio di condivisione dei dati con il 118 ma in realtà anche con tutti gli altri operatori dei servizi di emergenza, quindi mi viene da pensare alla protezione civile, ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, ecco che in questo caso qui i dati oltre ad essere analizzati e quindi gestiti per gli scopi più professionali vengono anche divulgati al cittadino e quindi il cittadino stesso potrà utilizzare il servizio del SIT proprio per poter individuare le zone interessate dalla geolocalizzazione che come è importante ricordare è legata a delle coordinate precise, quindi dà veramente la precisione del luogo da cercare con lo scarto di errore di un metro, quindi è assolutamente affidabile. Si può entrare ovviamente dal sito ufficiale del Comune di Arezzo, quindi poi vai su servizi online e i servizi online ti portano ai servizi ai cittadini, quindi per tutti, e in questo caso qua ci sarà insomma il widget con il SIT che è appunto il servizio informativo territoriale.